Questa è veramente allucinante! Ti ricordi quando eravamo dei pischellini che nei raggi della bicicletta mettevamo la molletta con la cartolina per rigenerare il rumore dei motorini? Dai, chi è che non l'ha fatto? Io lo facevo su tutti i due i lati, addirittura anche sulla ruota davanti. Bene, perché ti sto dicendo questo? Come tu ben sai, ormai i motori di nuova generazione, soprattutto i motori turbodiesel, ormai il suono dallo scarico è praticamente zero. E chi è appassionato come me e sicuramente come te, invece in realtà preferirebbe avere uno scarico che emetta un suono allucinante, un suono fantastico, un suono che ti fa venire il brivido dietro la schiena, come i normalissimi V8, V6 o gli aspirati quelli incazzati. Così cosa hanno realizzato? Una casa automobilistica tedesca ha realizzato una cosa allucinante, veramente, che quando l'ho vista in realtà veramente dicevo, ma Rono non se ne può più. In realtà pensandoci bene si riesce a rigenerare lo stesso identico suono di un motore super incazzato V6 o V8 o un aspirato che picchia forte. Cosa hanno fatto? Hanno preso un barilottone, una sorta di silenziatore. Gli hanno messo all'interno un generatore di frequenze. Questo barilotto, che dove non passano i gas di scarico, si collega nell'ultimo pezzo del terminale. Questo generatore di frequenze è collegato alla telemetria della centralina della tua auto, che tramite un software molto particolare riesce a riprodurre fedelmente lo stesso suono che esce, per esempio, da un motore V8, V6, un motore aspirato incazzato. Così, con un normale motore 1.9 turbodiesel, potrai selezionare il suono che esce dagli scarichi e la macchina che più ti piace. Così andando in giro, camuffata anche leggermente di estetica, nessuno si accorgerà che avrai in mano un semplicissimo 1.9 turbodiesel. Questo kit, come ti dicevo, è optional su una nota casa automobilistica, ma ci sono tantissimi altri produttori che hanno realizzato questo kit che puoi montare tranquillamente, perché no, anche sotto una .55. Bene, senti, come sempre è tutto, io sono sempre qua pronto a condividere insieme a te queste fantastiche novità che ogni tanto fanno anche sorridere, ma perché no, ogni tanto soddisfano anche un pochino di udito in questi motori che ormai stanno diventando sempre di più delle zanzare. Bene, come sempre è tutto, io spero di esserti stato d'aiuto e con questo video averti fatto sorridere e perché no, like e che non mi vedi come sempre. Ciao, alla prossima!